Il più bel pilota che esiste, è stato il miglior comandante che abbiamo, era un uomo che sapeva cosa voleva, se c'erano due aeroplani uno era per lui, ma lui doveva, in tutte le azioni c'è stato, è mancato in una volta o due perché era andato a finire all'ospedale, quando si sono puntati uno con l'altro, fra lui e il comandante americano, ed era l'uomo che sapeva tutto e lui essendo nato in Africa, che lui è nato da genitori italiani in Africa, no? In Africa il punto più alto qual è? La Palma, e allora diceva noi dobbiamo essere sempre in cima alla Palma e non li abbiamo mai avuti in testa, perché con lui ci ha fatto fare 11.000 metri con 205, sentivamo i comandi a vuoto perché non li sentiva più, non c'è l'importanza all'area, ma 11.000, 11.002, ma i test non li abbiamo mai avuti, mai. Lui non portava mai formazioni grosse, che è lenta fare le manovre, lui dice quando stiamo per entrare in combattimenti due, 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 copie di due, lui c'è un gregario, io c'è un gregario, l'altro, e da 6.000 metri c'era la formazione sotto, contro la formazione, sparavamo dentro la formazione e passavamo sotto tirando su da lontano, è sempre andata così. Quando si discute una decorazione al valore militare dell'aeronautica di un certo valore, il presidente della Corte Unica è un generale di corpo d'armata, esercito, con un ammiraglio e un generale di squadra aerea. La prima commissione che ha portato le mie tre medaglie d'argento in discussione, la Marina ha letto le motivazioni, a un bel momento ha detto se l'aeronautica non è il contrario, dice noi queste sì, le mettiamo in una sola, per noi è una medaglia d'oro, c'è 160 combattimenti, c'è 24 apparecchi battuti, tanti dicono 19, quelli che dicono 19, vengono loro a battere i 19 che ho battuto io, poi vedrà, noi avevamo allora un capo di stato maggiore, gli ordini erano questi, signor sì, le rispettavamo e quello che era stato stabilito si faceva, ma noi politicamente, io non ho mai, io ho avuto una tessera da balilla, da vambardista e da giovane fascista e basta. Poi dopo, perché da giovane fascista? Perché mi piaceva andare in moto e loro mi davano la moto per andare a fare la rosa d'inverno, a fare tutte queste cose, ma nient'altro. E' una cosa che purtroppo la passione è passione, io ho fatto due guerre e le ho perse tutte e due, all'8 settembre, è venuto l'8 settembre, con la Repubblica il 25 aprile, però non mi lamento, se ci fosse da dire, ci vado ancora a fare, vado ancora dalla parte sbagliata, dove loro lo dicono, perché per me non era sbagliata difendere le città, perché quando ho visto Roma saltare per aria, Scalo San Lorenzo e compagnia, i morti che hanno fatto erano i liberatori a suon di bombe, a presto! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti